salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo episodio un nuovo gioco se ne ho fatto pia e proveremo a tegarci un po' addosso si spera gioco è fatto per quello quindi musica anche le porte che si aprono non ci prepari laschi da mangiare non lo vuoi un alberello non mi mangio gli alberi di natale cosa è sta roba sono degli piccoli stranzetti e si fatti essiccare ok apriamo la porta ma non si può prendere la torcia va bene questo qua bravo grazie che me leva le cuffie questo baggy hai provato a prendere la torcia ho provato ma non la prendi non poprire solo gli uvinetti maier luce fu poi deve pagare la bolletta allora proviamo ad andare di sopra andiamo a canzonci nooo nooo vabbè non ci mette un emma morrone quindi non è terrorizzante quando metterai me marrone allora mi cagherò addosso come che è bravo devo dire che è bravo brava l'h si deve sentire andiamo di qua di qua ma già torniamo giù nooo c'è un porto adesso torno indietro ora al quadro a destra e' ubriaco dv c'è un porto chi si è già andato e' sempre la porta di e te ne vai non si può no nooo ho già provato il coso lì ok non capisco perchè si erano canciate le cose ok una pista c'è un po' non c'è un po' non c'è un po' ovviamente le chiavi lasciate probabilmente di tutto di sopra dove siamo già arrivati la campana il campanino campanellino grazie troppi pennelli vinello che viene non c'era bisogno che lo compro davvero molto bravo come artista troia il caso dei poveri non c'è un po' per quello mi sapere vogliono uccidere si si parola e' meglio attacca figa attacca che bello taratata perchè c'è silenzio ora c'è una scritta dov'è se non so sono sopra get this time cioè prendila bene sta volta a curso ecco ha già cambiato ecco eccolo lì già inizio ma trova ma trova ma trova just out of the fridge che vuol è il ventolino che hai in sala buggy no no non è questa la tua sala ma trova come è la mia no no vai controllare un attimo no no era chiuso però infatti è pure il vento ci si mette che cazzo 4 4 8 5 su 1 2 2 3 4 4 4 5 4 4 5 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 6 5 6 6 6 6 7 7 8 8 5 7 6 7 8 10 9 9 9 9 10 9 10 10 9 9 9 mi piaceva boh, è da perduto è prima la chiesa ma è aperta esatto un bel falò bello, bellino ma è caduto? è caduto il quadro? sembra che siamo caduti noi o siamo entrati nel quadro è vero la pizza la luce what the fuck si è molto bello che sia con quel turbante ti dona molto, sai? come un cazzo di culo bella marcia sta stanza fai non tirare le leve se le vedi se non vedi le leve non so bel cervetto lo sento andato indietro ora? ora rientri un po' no no no, le brevi niente non ne voglio, grazie non ne voglio sapere dei video esatto aspetta vabbè bambi yes just like that just like that hold that pose sono libri fuori quindi probabilmente no c'è gente che va in barco è rimasta la manina monca una foto shop zio non sei capace a ora che sistema qua è un mostro di libri nel fuori sistemi tu adesso il mostro scolastico il mio professore erano stanzi erano nero no dai che piange no adesso la sinistra valli c'è un testo se l'inizio è sbagliato vabbè alleghiamo pure il caso se no se non piange più non mi piace chiusa e dove siamo andati prima ci sono degli stranzetti essiccati ok c'è una lettera forse valli ok no no prende solo i fogli che vuole lui quindi che ti piace ahahah fate aprire qualcosa oppure da stare qui a cucinare il suo capace cucinare te l'ho detto non so che faccio cucinare ti fa cadere le mele mi chiamo veramente come stai facendo veramente cadere le mele ok ok tranquillo sto scherzando non è pronto e via bello murato prima ero visto dei posti perchè adesso è diventato così è muovato zio pur chiuso ecco mi sta dando gli ingredienti per fare che ci ha dato più scaduti marci ma che roba melanzane pomodori cipolle cipolle ora posso andarmene già che la bolletta non la paghi eh sul risparmio è giusto un pochino la bolletta ma cos'è canvas ma cos'è canvas eh un animale credo un cervo un cervo vero un corrotto un corrotto può essere che vedi dice infatti cioè flay the skin la pelle si togliergli la pelle lì mi sento al cerco di merda c'è comunque un animale a me scortare un un tizio che poi si è preso dietro il la pelle lì il personaggio ha messo qua dentro come ha fatto eh vedi era qua l'avevo preso e poi è sparito gli diventatori ma forse sono i fenicotteri i shameless che cazzo è ci vuole il rino morto i fenicotteri i fenicotteri assassini i shameless dreams vabbè vabbè devi dire quei fenicotteri si può finire esatto 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 sezzi finchè non succede niente ancora esatto tutto bene finchè ci danno solo le mele eh abbiamo scoperto che c'entra un animale non si sa cosa esatto forse lo zoo sa fare non so cosa da Alaska è tutto e anche da Buggy ci vediamo al prossimo episodio ciao bella ciao